A più di dieci anni dalla morte di Pier Giorgio Welby, otto anni dopo il caso Englaro e dopo il caso di DJ Fabo, è approdato alla Camera oggi, lunedì 13 marzo, in un'aula semideserta, la proposta di legge sul Biotestamento. Il testo è composto da cinque articoli, ma lo scontro tra le forze politiche e le parti sociali si concentra soprattutto sull'introduzione delle DAT le disposizioni anticipate di trattamento, ovvero la possibilità per i pazienti di esprimere la volontà di interrompere la nutrizione e l'idratazione artificiale in caso di grave situazione clinica. Queste le novità disposizioni anticipate di trattamento ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, attraverso le disposizioni anticipate di trattamento può indicare le proprie volontà in caso di una futura patologia invalidante che la renda incapace di autodeterminarsi. Si possono quindi esprimere le proprie preferenze in materia di trattamenti sanitari, sul consenso o il rifiuto, rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e sui singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. DAT Il ruolo del fiduciario Chi decide di usufruire delle DAT dovrà indicare un fiduciario che ne faccia le veci e lo rappresenti La persona in questione può rinunciare al ruolo tramite un atto scritto e, in ogni caso, il suo incarico può essere revocato. In questi casi, o se il fiduciario dovesse morire o divenire incapace di intendere e di volere, le DAT mantengono efficacia in merito alle convinzioni e preferenze del paziente. Niente tasse Le DAT devono essere redatte con un atto pubblico o tramite scrittura privata, ma sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro attributo, imposta, diritto e tassa. Consenso informato DAT